Buongiorno, oggi siamo al prossimo momento a giocare un pochino di maticola Non ci sono tanti di me, oggi ho tantissimo maticano di me, non pensiamo così Come vedete, dopo andiamo a dar un caratterico, se va, non ho vinto i mariani, ma io spero che ho comprato queste due Questo, questo, 170, 170, questi due, allora andiamo subito a farlo Io legano anche bene, io lego solo a questo Come faccio? Spero, prima, rispettiamo un pochino perché, unla Ok ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ok allora arriviamo ad 80 milioni dei cosi di arco barreno sotto la gemma, intanto facciamo un pochino di tempo, mando un pochino a caso qui è più vero, c'è quello che posso fare, che non mi dai 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 dai, tu costi stare agonare, non c'è capito niente overbord non c'è capito un po' di più dopo che ci sono qui faccio vedere un po' 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 un deve ripestare per cento sopra le giambe la che mai dai sono i miei 5 petto più forti a ah io ne ho dubbi accetto chi ha detto chi ha detto numero faccio vedere adesso io faccio vedere adesso io ti faccio vedere io che qui ti faccio vedere io ho fatto la pia e la pia e la pia come fa la pia un po' di calcio un po' di calcio un po' di calcio e non, l'abbiamo e non, l'abbiamo io non ti accetto mica che ti leite però ti ho fatto imparare una reazione adesso la e io non ti ho fatto il ma comunque io ti farò giuntino perché c'ho messo ok non doveva andare tu, tiè, tiè oh 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 no no stovato to have to sit after sit after sit so then ti ho fatto imparare una lezione zitto Ti ho fatto imparare una lezione, zitto, e sono più ricco, e sono più ricco, e sono più ricco su YouTube, sto registrando, sto registrando. Buona fortuna, buona fortuna, però, buona fortuna, con il buona fortuna con il popolo andai ma per ora dai e 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 tchau!